Buonasera, bentornati su Doccia Fredda. Questa sera ci spostiamo, non parliamo di Rio Nero, ma percorriamo una ventina di chilometri, Oraziana interrotta va bene, per andare su Venosa. Abbiamo con noi un amico che io vi presento subito, ex consigliere regionale, attualmente consigliere comunale di opposizione su Venosa, Franco Mollica. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci ascolteranno e ci guarderanno. Il motivo della presenza di Franco Mollica è presto detto. Noi ci siamo occupati come emittente già da tempo di problematiche relative al comune di Venosa. Tempo fa abbiamo anche fatto una diretta, proprio da Venosa, nella quale i consiglieri comunali di opposizione lamentavano una sorta di disinteresse, di chiusura da parte dell'organo amministrativo del sindaco e degli assessori comunali di Venosa, nei confronti di tutto ciò che provenisse dall'opposizione. In questi giorni a me è capitato di vedere un filmato di un consiglio comunale un tanto particolare, svoltosi a Venosa e filmato, girato a Venosa da un cittadino. Filmato che mi ha incuriosito, motivo per il quale io questa sera ho invitato Franco Mollica, non a caso. Però prima di entrare nel discorso è bene che chi ci sta guardando sappia di cosa parlo. Quindi pregherei la regia ora di trasmettere quel filmato che ho visto io che circola sul web e che è relativo a questo consiglio comunale di Venosa. Credo si possa andare subito con il filmato. ...interrogazione come si deve e lei date l'ignoranza al mio assessore. Voi non dovete pensare assolutamente perché voi siete troppo pieni di voi stessi. Non sapete neanche a scrivere quell'interrogazione e date dell'ignoranza ad un mio assessore. Siamo tutti ignoranti. Dopodiché, Presidente, così come fanno gli altri e siccome io non dovevo essere interrotto... Agente Siviglia, agente Siviglia, agente Siviglia, puoi intervenire per favore. Agente Siviglia, puoi intervenire per favore. Non era l'ignoranza, stavamo tutti ignoranti. Non è il modo di partecipare ad un consiglio comunale questo. Lo deve dire a loro, lo deve dire, sto parlando. In che scegliere? Ho capito, avete anche le forze dell'ordine dalla vostra parte, le avete bene a lezionare. Abbiamo solamente richiesto... E' la democrazia, è la democrazia che non urla, è la democrazia che non urla. Se lei è abituato a questi modi, non sono i nostri. Come vi dicevo, un filmato un tanto particolare. Io, di per me, prima di passare la parola a Franco Mollida, al quale chiederò di spiegarmi che cosa realmente sia accaduto, due considerazioni le faccio, sapete, non riesco poi a tenermele le cose per me. Ma prima di tutto vorrei capire, io, è vero, non ho mai ricoperto incarichi elettivi, ho 64 anni e da quando ne avevo 15 comunque ho fatto politica attiva. Quando ho smesso di fare politica attiva, comunque ho continuato a frequentare il mondo della politica, a vedere consigli comunali, consigli regionali, a volte anche sedute alla Camera dei Deputati. Io è la prima volta che vedo un intervento di una forza di polizia giudiziaria nel corso di una seduta. A parte che vorrei capire, io personalmente, e probabilmente ne chiederò conto al comandante della polizia locale di Venosa, come mai quell'intervento, che io, ripeto, non sono riuscito a capire, ma questa è una questione del tutto relativa. Franco, a parte tutto, devo dirvi che avete un sindaco che ha la voce agli ultrasuoni. Franco, è una cosa incredibile. Ma io vorrei fare una piccola considerazione. Ho sentito nel filmato che si parla di democrazia urlata e democrazia non urlata. Mi chiedo a questo punto se per la democrazia urlata in un consiglio comunale si chiede l'intervento della polizia locale in altre assise, in altre riunioni di democrazia non urlata. Ma quando parla Beppe Grillo, che devono fare? Devono chiedergli l'intervento dell'esercito. È stata una valutazione che io ho fatto così vedendo quel filmato. E ora chiedo a Franco, che è qui, che cosa è successo a quel consiglio comunale? Intanto credo che chi abbia potuto vedere il filmato e alla frase che la democrazia non va urlata, proprio chi invocava quella democrazia non urlata, stava urlando. E stava urlando a sproposito e fuori luogo e non in norma con i regolamenti perché si trattava di una interrogazione. Una interrogazione che il sottoscritto aveva fatto sulla sollecitazione di alcuni cittadini, perché questo è l'unico strumento o uno dei pochi strumenti che noi abbiamo per poter dare un contributo, perché tutti i nostri contributi sono sempre rigettati, nonostante ci viene detto che noi non proponiamo, noi invece proponiamo, ma sistematicamente questa amministrazione blocca, erge un muro a qualsiasi tipo di proposta migliorativa, così come ci sono tanti esempi su cose che sono accadute e quindi di conseguenza quel fatto di urlare era nella replica che il consigliere ha diritto. Una interrogazione, l'interrogante espone l'interrogazione, l'assessore risponde all'interrogazione, l'interrogante ha diritto di replica e nessun altro, secondo i regolamenti di tutto il mondo, possono sulle interrogazioni prendere la parola o intervenire. Invece, a quanto pare, il sindaco pensa di essere il padrone assoluto di quella comunità che può fare tutto quello che vuole, credo che sia delirio di onnipotenza, è intervenuta con la scusante di aver voluto difendere un suo assessore perché io ho detto che l'assessore era ignorante in materia, l'ho ripetuto e l'avete potuto sentire anche nell'interno del filmato, che mi riferivo alla non conoscenza di alcune norme che la interrogazione aveva posto in essere con le parole dello stesso assessore. Sostanzialmente l'assessore stava dicendo cose che non erano in linea né con la legge e né con le norme regolamentari. Pertanto gli avevo detto all'assessore che se la risposta era quella non poteva non esserci una ignoranza in materia, cioè una non conoscenza di quel determinato fatto in quella maniera. Ecco che cosa sostanzialmente è successo e l'intervento, credo, anche da parte del vigile invocato più volte, urlato da parte del sindaco, è esattamente la misura e la stura di come il personale si succube in quanto la vigile aveva paura magari di un provvedimento disciplinare successivo ed è venuta vicino a me ed era intervenuta violando tutte le norme e anche mettendo in atto insieme con il sindaco un abuso di ufficio perché non c'era nessun tumulto, i vigili e le forze dell'ordine possono intervenire se ci sono tumulti, ma non certamente. Per azzittire chi all'interno del Consiglio Comunale esprime una rappresentanza democratica di gente che ha voluto votare me e mettermi e portarmi, anche se in opposizione per pochi voti, all'opposizione ma in rappresentanza e quindi a difendere gli interessi anche dei cittadini. Io, scusami se ti interrompo, vorrei chiarire una cosa perché a me quello che ha sorpreso, che ha stupito e che mi ha fatto venir voglia di interessarmi all'argomento è stato proprio l'intervento dell'agente di polizia. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che la polizia locale è vero che amministrativamente dipende dall'organo politico, quindi dall'amministrazione, dal sindaco e dagli assessori, ma è l'unico gruppo di impiegati di un comune che da un punto di vista operativo dipendono esclusivamente dal comandante della polizia locale che poi dipende dalla procura per altri atti. Quindi mi ha davvero lasciato in dubbio quel filmato, ma a questo punto fammi capire qual era l'argomento del contendere? L'argomento del contendere però mi devi permettere un piccolo inciso. L'intervento delle forze dell'ordine all'interno del Consiglio Comunale, così come ho detto prima, in caso di tumulto o rissa o altre cose pericolose, è fatto dal Presidente del Consiglio e non certamente dal sindaco che in quel organismo non ha nessuna titolarità, per cui anche lo stesso Presidente del Consiglio, che si vede scavalcata sistematicamente e non è la prima volta da parte del sindaco, che pensa di essere, così come ho detto prima, il verbo sceso in terra e che tutto può essere possibile perché lei e solo sindaco non riescono a capire che anche quella è democrazia. L'argomento era la realizzazione di un dehors. Un cittadino ben due anni e mezzo fa presenta una domanda per rimodulare un dehors già esistente. Questo dehors serve per attività commerciali, per attività produttive, viene presentata la domanda, il Comune dopo un mese, un mese e mezzo gli chiede una integrazione, ha quella domanda con tutti i documenti tecnici. L'integrazione viene presentata e dal momento in cui viene presentata l'integrazione, silenzio assoluto, sono passati due anni. In questa interrogazione l'assessore dicendo che non è riuscita a capire qual era questa domanda di questo dehors come se è avvenosa. Ma quante mi sono state presentate? Una sola ed è ferma. Scusami, fammi capire perché non vivo avvenoso. C'era una domanda. Una sola domanda sui dehors ed era questa. Tu hai fatto l'interrogazione su quella domanda. E smuovere per dopo due anni, mi sembra un fatto normale. L'assessore però non ha trovato quella domanda. Dice di non aver trovato quella domanda perché nella mia interrogazione, nonostante fossero citate fatti e date di documenti sia in entrata, quindi del cittadino, sia in uscita, quindi del comune, perché mancavano i protocolli. Tant'è che la sindaca mi accusa che dopo 30 anni di politica questa mia esperienza non è servita a sapere come si presenta un'interrogazione. E quindi sei ignorante pure tu. Certo, ma perché diceva uno scienziato, uno che conosceva tutto, o perlomeno conosceva molto, si chiamava Einstein. Einstein diceva che su questa terra siamo tutti ignoranti. Tutti ignoranti. La differenza fra una persona e un'altra è che non tutti ignoriamo la stessa cosa. Per cui quello che potrei ignorare io potrebbero conoscere gli altri, ma quello che gli altri non sanno potrei saperla io. E' questa la proposizione che invece viene esclusa in questa fantomatica ricerca di democrazia che a Venosa non esiste. Il fatto che anche l'aiuto, perché non è la prima volta che fornisco documenti all'amministrazione, agli assessori che loro non hanno o che non riescono a trovare, in questo caso credo in maniera strumentale, perché se qualcuno nel suo ragionamento innesca un meccanismo di nuovo regolamento secondo il quale bisogna trattare le domande, dico che è ignorante in materia perché i regolamenti, così come addirittura le leggi, non sono retroattive. Per cui il regolamento valido è quello al momento della domanda e non può essere trattato con un regolamento che loro vorrebbero mettere in piedi e approvare a loro piacimento. Cheppure deve essere fatto, cheppure è stato sollecitato perché ci sono problemi da risolvere soprattutto in Piazza Castello durante il periodo invernale dove alcune attività hanno chiesto di costruire dei dehors amovibili, cioè mantenerli solo in inverno e poi smondarli a primavera, in estate, già a primavera e quindi per tutta l'estate e anche per l'autunno. Da questo punto di vista è strumentale quella risposta che già provocava una reazione, se poi a questo si aggiunge il fatto che chi non ha diritto alla parola e dice di essere democratica, interrompe l'intervento di chi ha diritto a parlare, è il Presidente che sta zitto e che non dice niente, questo è quello che si consuma purtroppo, devo dire purtroppo, perché Venosa non ha mai avuto e non ha mai visto un periodo così brutto per quanto riguarda sia la democrazia ma sia per quanto riguarda la politica. Tu hai detto che hai fatto politica da 15 anni. La politica è discorso dal termine greco politikos, discorso su qualche cosa, su qualsiasi cosa, questi il discorso non lo accettano perché secondo me non sono in grado di mettersi sullo stesso livello e confrontarsi, per cui si utilizzano questa metodologia, si utilizza questa metodologia solo ed esclusivamente perché non si è in grado di confrontarsi democraticamente con qualcuno e in questo caso il sottoscritto perché questo lo sto subendo dal primo Consiglio Comunale da quando si è insediata questa amministrazione. Franco scusami, è una curiosità mia, ma quella gente di Polizia Locale che ti ha detto? Mi ha detto che io mi dovevo calmare e io gli ho chiesto scusa, ma tu chi sei per potermi dire che mi devo calmare. Del resto all'interno del Consiglio Comunale io sono una istituzione nell'esercizio delle sue funzioni e lei ha accettato però poi successivamente di non conoscere il regolamento perché il fatto che sia venuto a dire a me di calmarmi, stava urlando pure il sindaco, non si capisce perché non l'abbia detto anche al sindaco di calmarsi, ma questo è l'elemento, è quello che si sente, quello che si vive a Venosa. Purtroppo sono all'ordine del giorno i provvedimenti disciplinari, avendo paura la vigilessa del provvedimento disciplinare, non sapendo che cosa fare e ha seguito l'ordine di chi non doveva dare l'ordine perché non gli può dare ordini in questo senso e in questo caso non l'ordine, ma la richiesta di intervento poteva essere solo del Presidente del Consiglio e non certamente del sindaco, io so tutto e io faccio tutto. Direi di chiudere qua l'argomento soprattutto per quando attiene l'intervento della signora agente, la donna agente di polizia locale, però a questo punto mi rifaccio io ad Einstein perché io ho tante ignoranze, ma una di sicuro ce l'ho ed è quella di ciò che avviene a Venosa, non lo so. Qualche tempo fa ho visto un altro posto dove c'era un consigliere comunale di Venosa disteso sul letto del pronto soccorso e che gli hai fatto? Assolutamente niente, quella è un'altra brutta pagina che si è consumata all'interno del Consiglio comunale durante una commissione, questo per dirla tutta di qual è la metodologia che viene utilizzata anche rispetto a chi vuole dare un contributo e quel giorno tutto parte dalla modifica di un regolamento che trattava e toccava la tasca dei cittadini, regolamento sul quale mi ero premurato di lavorare e di studiare sopra, avendo rilevato che in quel regolamento c'erano delle incongruenze con degli articoli in contrasto uno con l'altro. ad una mia proposta al Presidente della commissione specifica di esaminare i punti successivi perché erano cose veloci e poi di dedicarci con un pochettino più di attenzione a questo regolamento per eliminare queste incongruenze, scatta il Vice Sindaco che era presente non so a quale titolo all'interno di quella commissione dicendo al Presidente della commissione e urlando che quelle erano cose urgenti, questi, questi, detto in dialetto addirittura io lo sto dicendo in italiano, il Vice Sindaco nei nostri confronti, nei miei confronti, chissi, giusto per dare il senso e la stura in dialetto, le carte ce l'hanno e venissero in consiglio, per cui anche il lavoro, l'impegno a voler dargli una mano perché quel regolamento che poi non è stato approvato in quella commissione viene portato in consiglio comunale nel consiglio successivo, noi non eravamo presenti per protesta per quello che era successo e quel regolamento viene ritirato perché un avvocato di una associazione gli fa rilevare che esattamente quello che gli volevo far rilevare io era un'incongruenza e che non ci poteva stare, il regolamento viene ritirato, quindi una figura da niente, viene modificato così come io volevo proporre di modificarlo e viene riportato in consiglio e questo significa che io avevo ragione nel voler esaminare con attenzione, questo dopo di che quando questo signore inveisce contro di me, sempre il vice sindaco, stiamo parlando del vice sindaco, io gli dico che era un modo cretino di fare e di operare e che lui era un cretino e c'è stato un diverbio verbale devo dire, devo assumermi anche la responsabilità, io che ho un pochettino più di esperienza, forse non dovevo nemmeno, ma c'è stato solamente un diverbio verbale, dopodiché accendendomi una sigaretta e addirittura con lui che mi diceva che doveva andare fuori a fumare questa sigaretta, questo mi sembra giusto, era giusto, mi sono portato sulla porta e quindi all'esterno, questo signore viene davanti, mi viene a sfidare mettendo la faccia sua vicino alla mia e mi dice che lui si manteneva e non mi avrebbe rotto la faccia solo perché io ero una persona anziana, da questo punto di vista poi ho sentito che questo era entrato dentro parlando insieme col Presidente e chiamando i carabinieri dicendo di essere stato aggredito, cosa che non è vera, io non l'ho proprio toccato, del resto ci sono testimoni e ne stanno uscendo anche altri testimoni che hanno visto che io non l'ho proprio toccato, si è fatto ricoverare in pronto soccorso e in più, lui diceva io avevo capito l'occhio, l'occhio, l'occhio come se gli avessi toccato un occhio, dall'occhio nei giorni successivi, poi c'è stato quel giorno anche la denuncia, le querele di parte, da parte sua ma anche da parte mia rispetto a ciò che era successo e dall'occhio siamo passati al fatto che gli avrei dato una testata, quando lui si è avvicinato alla mia faccia gli avrei dato una testata, io non l'ho proprio assolutamente nessun toccato, poi abbiamo scoperto che il certificato medico che gli è stato fatto in un pronto soccorso che viola le norme anti Covid perché quella fotografia che tu mi dicevi prima che hai visto era la sindaca che non poteva entrare in pronto soccorso, la foto l'ha fatta il sindaco? Il sindaco che ha scattato questa fotografia per mettere il posto e dire poverino il vice sindaco è stato aggredito quasi per farmi passare come se io fossi il violento di turno e anche quello credo che sia una questione preordinata perché lì dove non riesci a demolire una persona con il confronto, con la conoscenza lo devi demonizzare o indicare come la persona violenta, cosa che invece non è assolutamente vera, con un certificato che non riesco a capire nemmeno qual è. Io non capisco una cosa, cioè voi siete usciti fuori? Sì, no io sono uscito fuori, lui mi ha raggiunto. Il vice sindaco ti ha raggiunto, poi a un certo punto il vice sindaco rientra, chiama i carabinieri perché tu gli hai messo qualcosa nell'occhio, così sapevo, poi era una testata, poi diventava una testata, poi scopro che il certificato medico è per una distorsione al ginocchio. Scusami, tu hai giocato a calcio? No, io non ho giocato a calcio. No, no, dico in gioventù hai giocato a calcio. Ma no, guarda, ho tentato di fare qualche partita però ero così schiappa che ho dovuto desistere immediatamente. No, perché c'erano dei calciatori che riuscivano a fare dei bellissimi gol con le testate a pesce, cioè si tuffavano e tu come hai fatto a dargli una testata al ginocchio? Non so, lui dice che indietreggiando, questo le ho sapute perché lui le avrebbe riferito ad altri colleghi che poi mi hanno riferito, che indietreggiando avrebbe avuto una distorsione al ginocchio. Cioè lui che non voleva rompermi la faccia perché io ero anziano, poi alla fine dice di aver avuto questa distorsione, non so in quale maniera. Senti, io francamente ho detto di essere ignorante di ciò che avviene a Venosa, ma questa mia ignoranza stasera sta accrescendo. Quindi non vorrei toccare sempre questi temi, ma in sintesi, già che me ne avevate parlato in Piazza Orazio quando abbiamo fatto una diretta, di una mancanza assoluta di interfacciarsi con l'amministrazione. Ma voi fate solamente le risse o ogni tanto proponete qualcosa? No, ma noi addirittura proponiamo e proponiamo anche tanto, del resto agli atti, normale agli atti esistono tutte le nostre proposte, mozioni che servono a migliorare anche, a eliminare qualche discrasia, a migliorare la vivibilità e quindi andare verso quello che la gente vuole. Ne prendo una d'esempio, una delle prime. Io presento una mozione plastic free. Che sarebbe? La mozione plastic free sarebbero tutte le azioni e ciò che viene messo in atto da una comunità che si impegna a eliminare la plastica o il massimo della plastica possibile, iniziando da se stessi, sarebbe a dire che nelle macchine distributrici di bibite anziché utilizzare le bottiglie di plastica si utilizzano le bottiglie di vetro, nell'ambito delle menze anziché utilizzare i bicchieri monouso che poi vengono buttati si possono utilizzare utensili che vanno lavati e possono essere utilizzati successivamente oppure utilizzare anziché la plastica, sicché sempliciter, il prodotto biocompostabile, cioè quei nuovi e innovativi prodotti che non producono inquinamento. Ci bocciano questa mozione perché dicono che nel loro programma questa cosa già c'era. Ebbè, voglio dire, se questa cosa già c'era nel loro programma a maggior ragione dovevano essere contenti di approvare una mozione del genere. Invece la mozione la bocciano e quelle cose che loro dicono e che hanno nel loro programma ancora continuano a rimanere scritte nel libro dei sogni di quei programmi che si scrivono all'inizio o quello che si dice all'inizio e che non si farà per tutta la consigliatura. Ecco perché dico che già dall'inizio c'è questo muro nel quale loro qualsiasi cosa viene proposta, anche migliorativa, che può venire da un'esperienza che loro non hanno. Un'esperienza che loro non hanno. Loro possono dire tutto quello che vogliono, ma non hanno esperienza. L'esperienza serve a risolvere i problemi della gente. E se qualcuno vuole dargli una mano solo perché arriva da questa parte, addirittura è classico, potrei chiamare a testimoniare, un pochettino di gente che poi si era rivolta a me perché il problema non veniva esaminato. Altri problemi di persone che volevano investire, giovani che volevano rientrare. Gli è stato detto a queste persone, ma tu ti sei rivolto a Franco Mollica. Il che significa che solo perché qualcuno aveva posto il problema, me ne aveva parlato e aveva sollevato il problema e io in un discorso generale durante il bilancio avevo sollevato questo problema, quella persona viene danneggiata e non viene aiutata a tornare, cosa che dovrebbe fare qualsiasi tipo di amministrazione. perché oramai abbiamo capito che con il loro agire tutte le attività produttive sono morte. L'economia venosa risente tantissimo, sì del lockdown, ma anche di una mancata attenzione da parte di questa amministrazione che anche alle sollecitudini di dover rifare una nuova zona artigianale, di dover fare una zona industriale, intercettare i fondi del PNRR, ci chiamano in una commissione dove noi sollecitiamo queste cose e loro non solo qualche volta rubano qualche idea e poi la pubblicizzano e la spacciano come se fosse la loro, ma addirittura le cose serie non le mantengono, tant'è che c'è una delle poche attività produttive che è in fase di espansione dentro Venosa che dovrà spostarsi nell'area di San Nicola di Merfi perché l'amministrazione non riesce a risolvere il problema che questo signore, questo imprenditore aveva posto. Io avrei fatto carte false per dare la possibilità a questa azienda di rimanere, ampliarsi e dare lavoro. Io ti interrompo solo per un motivo, perché noi abbiamo fatto questa puntata di Doccia Fredda che è scaturita da quel filmato e da una foto che ho visto, ora non vorrei allargare lo spettro. Quello che posso dire in conclusione di questa puntata è che se io devo dubitarne, non me ne volete, ma se la realtà è davvero quella che dici tu, sarebbe veramente una situazione tragica. Io però ho il dovere e ho la voglia questa sera di invitare, se mi stanno osservando, sindaco, vice sindaco, assessori della giunta di Venosa, a ribattere a queste accuse se esse accuse sono ingiuste o artate. Dirò di più, come già ho detto in passato, quando ho avuto qui ospite il sindaco Giovanni e quando sono venuto da voi a Venosa, sarebbe anche bello se si potesse fare un incontro fra amministrazione e opposizione, perché ripeto, come me che non sono di Venosa e ho le idee abbastanza confuse, francamente guarderei con preoccupazione un simile agire in consiglio comunale, credo che anche i cittadini di Venosa, soprattutto i cittadini di Venosa, abbiano necessità di capire che cosa sta accadendo. Quindi rinnovo il mio invito agli amministratori e anche agli oppositori a che si discuta, si arrivi ad una soluzione e soprattutto se sono state dette questa sera delle fesserie, si controbatta se se ne ha voglia. Io credo che ci convenga fermarci qui questa sera. L'unica cosa, io accetto ben volentieri questo confronto, non fosse altro perché tu non sei il presidente del consiglio comunale e quindi non sei di parte ed essendo tu super partes noi ci sentiamo anche un pochettino più tutelati perché è vero che la democrazia non va urlata, è vero che la democrazia non va sussurrata, è vero che la democrazia non va fatta ma la democrazia va realizzata con una persona super partes che dà la parola a tutti quanti, non ci saranno alzate di tono e ci sarà logicamente un confronto che i cittadini potranno guardare e decidere anche loro del resto. Come la strada dell'inferno è disseminata di buone intenzioni, gli atti del comune sono disseminate di quelle nostre proposte non accettate per mancanza di democrazia. Bene, noi concludiamo qua. Io dubito di poter avere questa capacità di mettere pace in un consiglio comunale, ma se questo dovesse essere noi come Tg7 Basilicata siamo disponibilissimi e ancora una volta, ripeto, se si ha voglia di controbattere noi siamo qui. Il sindaco Giovanni ha il mio numero di telefono, ha anche quello di Pino, può contattarci in qualsiasi momento e io ripeto ci faremo promotori ufficialmente di, non dico un consiglio comunale, ma di un incontro fra maggioranza e opposizione. Nel frattempo chi ci ha ascoltato ha avuto modo di farsi una sua idea. Noi che dire, restiamo a disposizione. Nel frattempo io ringrazio il consigliere Mollica, ringrazio chi ci ha seguito in questa trasmissione e vi do il mio arrivederci alla prossima puntata di Doccia Fredda. Grazie a voi.